Il Campobasso lavora all'allestimento della Rosa praticamente incompleta. Novelli ha chiesto alla società il centrocampista classe 92 Giuseppe Capua, avuto dal tecnico campano ai tempi della Versa Normanna. Trattativa complessa, ma non impossibile. La mezzala infatti sarebbe appetita anche da club di Lega Pro. Nella provincia scolana sono in ritiro un gruppo di circa 20 giocatori, tra questi anche due senegalesi con passaporto francese, oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico di Novelli. La società Rosoblus si tuffa anima e corpo nella prossima quarta serie, nella quale ad oggi sembra si possano registrare le defezioni di Dertona, Torrecuso, Isola Liri e Noto. Situazione estremamente precaria a Chieti. La società si è regolarmente iscritta in Serie D, ma non ha un allenatore, un direttore sportivo e tanto meno dei giocatori. Inoltre il patron Pomponi cerca con insistenza dei compratori. Complessa anche la situazione del Lanciano. Fallita la vecchia società, la Virtus, che era appena retrocessa dalla Serie B, Donato di Campli, tra l'altro procuratore di Verratti, si è preso la briga di fondare una nuova società, la Pro Lanciano, che entro il termine di domani dovrà reperire 150 mila euro a fondo perduto per iscriversi in Serie D, in sovrannumero, in aggiunta a tutti gli altri adempimenti, fide iussione compresa. Il quadro del Lanciano è davvero critico ed il rischio forte è che, dovesse fallire la missione Serie D, la società neocostituita, potrebbe ripartire addirittura dalle categorie minori dell'Abruzzo. Sarebbe davvero un declassamento enorme. Il Giulianova non si è iscritto in Serie D e ripartirà dal campionato di promozione con una nuova società denominata Real Giulianova, che sarà allenata dall'ex amiternina Vincenzino Angelone. In Serie D ambizioni di vittoria dovrebbero averne la neoretrocessa dalla Lega Pro L'Aquila, la stessa neopromossa Civitanovese, ma anche il Matelica di Vittorio Esposito. Aliberti a Campobasso annuncia prezzi stracciati per gli abbonamenti, 50 euro in curva Nord-Scorrano e 100 nelle tribune, e ribadisce l'invito a venire allo stadio per supportare con il cuore il Campobasso, non per pontificare o criticare a priori. L'obiettivo sarà provare a fare bene divertendo, ha rappresentato il neopatrone Rosso Blu con il suo tipico modo di comunicare sobrio e mai sopra le righe. Un messaggio quest'ultimo chiaro e gradito a molti, ma soprattutto privo di inutili quanto ridondanti proclami di guerra. Aliberti vuole dare continuità al calcio Rosso Blu dopo aver ereditato una situazione sicuramente non facile. La piazza gli accorda fiducia e il tempo sarà sicuramente galantuomo. Grazie. Grazie.